Ciao a tutti voi che mi guardate, oggi proverò a dare un messaggio per la terza domenica di avvento rivolgendomi al capitolo terzo di San Luca che descrive come molte persone si rivolgevano a Giovanni il Battista per chiedergli che cosa fare, le folle vanno dal Battista a chiedergli che cosa fare, i pubblicani e perfino i soldati vanno da Giovanni il Battista a chiedergli che cosa fare. Di fronte a una tale richiesta mi sono domandato ma perché tutta quella gente va dal Battista a chiedergli che cosa fare e la risposta che mi sono dato, forse quella più banale, magari quella più scontata, certamente quella più semplice, è che quella gente si sia rivolta al Battista per chiedergli che cosa fare, forse perché non lo sapeva, può darsi che non lo sapesse. Anche a me capita spesso di non sapere cosa fare e credo che un po' a tutti ogni tanto succeda di non sapere cosa fare e dato che noi siamo sempre alla ricerca di risposte, poteva essere normale che quella gente si fosse rivolta anche a Giovanni il Battista. Dicevo che noi siamo costantemente alla ricerca di risposte, risposte a domande importanti come da dove arriviamo, dove siamo orientati, cosa ci facciamo in questo mondo. Il guaio qual è per noi oggi? Che è talmente alta l'ansia di risposta che purtroppo arriviamo a credere un po' a tutto. Non è un caso che siano sempre più in aumento i casi di richieste a indovini o a maghi circa la nostra vita, la nostra condizione, oppure che ci sia qualcuno che possa abbindolarci. Dicevo noi siamo costantemente alla ricerca di risposte, per questo crediamo un po' a tutto. Perché questo? Perché il non sapere ci spaventa, il non sapere ci mette in difficoltà perché non sapere vuol dire non conoscere e non conoscere vuol dire non poter gestire e non gestire ci mette in difficoltà. Vuol dire che siamo vittime un po' della situazione, dell'imprevedibilità. Noi vorremmo avere le cose sempre sotto controllo, ma questo non è possibile. Non mi sono però fermato solamente a domandarmi perché quella gente avesse chiesto al Battista cosa fare. Mi sono domandato anche ma perché proprio lui? Perché lui non un altro? Anche qui la risposta forse più scontata, forse più semplice, è che quella gente si fosse rivolta a Giovanni il Battista per chiedergli cosa fare perché Giovanni il Battista ispirava loro fiducia. D'altronde è normale che una persona della quale ti fidi tu ti rivolga a lei con facilità. Ma ancora di più, perché Giovanni il Battista ispirava loro fiducia? Perché Giovanni il Battista, e qui vado però nell'ambito dell'ipotesi, non c'è nulla che lo confermi, ma Giovanni il Battista era una persona credibile. Ma che cosa vuol dire essere credibile? Vuol dire che una persona parla più con la vita che con le parole. Non è un forzato gioco di parole. Vuol dire che quando uno è vero a se stesso, uno è coerente, questo paga in termini di fiducia. C'è un'altra figura che può essere pienamente credibile e che incontreremo nel Natale e possiamo prepararci a incontrarle in questo avvento, è il Signore Gesù. Io viene incontro all'uomo con il suo figlio, il suo figlio che è credibile fino alla morte, vuol dire che ci mette la faccia fino ad andare in croce. Auguro quindi a tutti di trovare persone credibili e di essere persone credibili guardando il Signore Gesù. Buona terza domenica di avvento. Grazie a tutti.